Un benvenuto a tutti. Questo sarà il grande regalo di compleanno di Adan Yaman da parte di Demir in Terra Amara. Oggi vi porto un'anteprima speciale di Terra Amara dove assisteremo ai vari colpi di scena a partire da un gesto del tutto inaspettato di Demir nei confronti del piccolo Adan in occasione del suo compleanno e poi un episodio sconvolgente che colpisce a Fecheli. Ma come sempre vi invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale perché il vostro supporto per noi è molto importante. Fecheli si sta preparando per l'imperdibile festa di compleanno di Adan quando nota che Mujigan è ancora in abiti casalinghi nel salotto. Con un'aria di stupore le chiede gentilmente perché non sia ancora cambiata considerando che stanno per fare tardi. Mujigan chiede dove si stanno dirigendo e Fecheli con un sorriso le rivela che quella sera si terrà la magnifica celebrazione per Adnan. Mujigan ribatte che non parteciperà alla festa e poi chiede a Fecheli se secondo lui deve essere presente per forza. Con calma Fecheli le spiega che non c'è alcun obbligo per lei di partecipare ma le ricorda che avevano già discusso di quell'evento e avevano deciso di andarci tutti insieme per accompagnare Kerem, il fratellino di Adnan. Inaspettatamente Mujigan suggerisce che Laftime e lui possono prendersi benissimo cura di Kerem poiché la sua presenza o assenza alla festa non cambierà proprio nulla. Fecheli tuttavia replica che non la costringerà ad andare ma le ricorda che Adnan è suo nipote e fratello di Kerem. Risoluta Mujigan ammette che ne è consapevole e che non si oppone alla partecipazione di Kerem alla festa ma ritiene che loro due siano più che sufficienti per accompagnarlo. A questo punto Fecheli le chiede se non pensa che sia finalmente giunto il momento di superare il rancore. Mujigan affaticato dal dolore che ha sopportato confessa che non desidera vedere nessuno che le ricordi il passato poiché le sue sofferenze non possono essere dimenticate così facilmente e non è ancora riuscita a superarle nonostante il suo desiderio di farlo. Fecheli con calma e saggezza le fa notare che le sta chiedendo non di dimenticare tutto ma crede che sia arrivato il momento di lasciare andare il passato e che per vivere in pace e permettere ai loro figli di crescere in un ambiente sano e sereno soprattutto dovranno imparare a convivere con Zuleila. Poi Mujigan cerca di ribattere ma Fecheli le ricorda che Ilmaz ed Emir pur essendo sempre stati in conflitto sono riusciti a dimenticare tutto il loro odio reciproco. Inoltre fa presente che Zuleila è stata disposta ad andare alla festa pur essendo a disagio solo per poter vivere con Adnan. non intende obbligarla ad andare ma le chiede di essere ragionevole. Alla fine Mujigan cede e annuncia che si preparerà per la partenza. Nel frattempo Demir aiuta Adnan a vestirsi in vista della festa imminente mentre Mujigan si prepara per uscire con Kerem e Fecheli e Love Time. Si dirigono verso il club cittadino. Dall'altra parte Zuleila e Demir si occupano dell'accoglienza degli ospiti appena arrivati alla festa e poco dopo fanno il loro ingresso Fecheli, Love Time e Mujigan. Fecheli si avvicina con gioia al nipote mostrandogli e presentandogli con orgoglio Kerem. Successivamente Sermin dà il via ai festeggiamenti portando la torta di compleanno mentre Uzum e Adnan soffiano sulle candeline. Un coro di applausi e auguri riempie la stanza mentre tutti festeggiano il bambino. Successivamente Sermin annuncia che è giunto il momento di svelare la grande sorpresa preparata da Demir per suo figlio. Yaman ringrazia calorosamente tutti gli ospiti per aver partecipato al compleanno sottolineando l'amore che prova per i suoi due figli. Rivela che ha persino donato loro parte dei suoi beni e aggiunge che quando ha accolto Adnan nella sua vita nonostante fosse figlio di Ilmaz lo ha trattato come se fosse suo decidendo così di dargli il nome di suo padre. Zulel è sorpresa e Fecheli si riempie di orgoglio per il gesto di Demir. A questo punto Demir ufficializza il cambiamento di nome di suo figlio che da quel momento si chiamerà Ilmaz Adnan Yaman portando così il nome del suo vero padre. L'applauso scrocia tra i presenti mentre Zulel abbraccia affettuosamente Demir per ringraziarlo. Nel frattempo Umit che è arrivata mentre Demir stava facendo il suo discorso guarda la scena con tristezza. Tutti gli ospiti si avvicinano per dare i loro regali al piccolo Adnan e Fecheli si fa avanti per ringraziare Demir per aver reso omaggio a suo figlio e porge il suo regalo e gli auguri al piccolino Adnan. Nel frattempo Fusun e le sue amiche commentano sorprese il fatto che Fecheli sembra aver donato una proprietà ad Adnan. Giunge alla festa anche Umit che si avvicina e Zulel la quale l'accoglie dolcemente e calorosamente ma Demir osserva la scena con un po' di fastidio. Umit si dirige quindi verso il bagno dove viene raggiunta da Demir. Mentre lei commenta la sorprendente festa Demir la interrompe con rabbia chiedendole cosa ci faccia lì. Umit risponde che è stata invitata da Zulel il che scatena l'ira di Demir che le chiede perché abbia mai accettato di andare e cosa stia cercando di fare. Umit chiede a Demir di lasciarla in pace ma lui le ricorda che le aveva detto di non partecipare e che avevano fatto un accordo fra di loro. Le domanda il motivo per cui è andata nonostante gli avesse detto di non presentarsi. Umit risponde che Zulel l'ha invitata personalmente e che se non avesse partecipato l'avrebbe interrogata per il vero motivo per cui non era la festa. Pertanto ha deciso di partecipare per evitare di destare qualsiasi tipo di sospetto e se ne va lasciando Demir sconvolto per la risposta. La festa intanto prosegue e Umit nota l'affetto tra Zulela e Demir cosa che la mette molto a disagio. Mujigan, sua amica, si accorge del suo stato d'animo. Nel frattempo Rasit esprime la sua sorpresa nel vedere che Demir ha dato il nome di Yaman a suo figlio. Gulten invece sospira di fronte a Zulela e Demir è sollevato, commenta, che sembra molto felice. Fadik fa un augurio affinché questa felicità duri per sempre. Improvvisamente Gafur irrompe urlando attirando l'attenzione di Demir che lo sgrida chiedendogli spiegazioni. Terrorizzato, Gafur gli racconta che lì fuori c'è il caos e il disastro. Demir è infastidito e gli chiede a cosa si riferisca e Gafur rivela che la villa è in fiamme. Tutti gli ospiti sono sconvolti dalla notizia e Gafur perde i sensi e sviene, suscitando l'attenzione tra tutti i presenti e soprattutto tutti che cercano di aiutarlo. Mentre Demir rimane per un attimo immobilizzato. Demir e Zulela arrivano di corsa alla villa e vedono il fienile distrutto dalle fiamme. Gulten chiede a Gafur cosa ci facesse lì. Ma Gafur si limita a dire che dovrebbero essere grati del fatto che fosse all'interno del fienile quando l'incendio è divampato, altrimenti non sarebbero nemmeno riusciti a spegnere le fiamme in tempo e a salvare il resto della villa. Zulela commenta con sollievo che almeno nessuno si è fatto male ed Demir dichiara con convinzione che l'attacco è stato opera di Fikaret. Il giorno successivo Fechili si aggira per la città ed Demir gli si avvicina con rabbia chiedendogli dove si trova i Fikaret. Fechili gli chiede il motivo dietro la sua ricerca ed Demir risponde che entrambi lo sanno benissimo il perché. Ma Fechili gli dice che non è disposto a litigare di certo con lui ed Demir lo provoca dicendo che non può definirsi suo zio se non è in grado di controllare Fikaret. Fechili lo avverto di stare attento alle sue parole ed Demir lo minaccia esortandola a prendere le redini di Fikaret. Fechili a questo punto chiede a Demir che intenzioni abbia dato che ha già calunniato la madre di Fikaret e Demir risponde che Fikaret avrebbe dovuto pensarci due volte prima di diffamare suo padre. I due iniziano a discutere e Fechili definisce Demir un vigliacco scatenando l'ira di quest'ultimo. Fechili se ne va furioso ma Demir lo segue fino all'azienda dove spara ripetutamente al petto di Fechili. Aliramet cade a terra e tutti i presenti sono terrorizzati. Queste avvincenti anticipazioni per oggi sono terminate. Continuate a seguirci iscrivendovi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle anticipazioni della vostra serie preferita. Lasciate un like e attivate la campanella delle notifiche. Grazie e al prossimo video!